Il centro-sinistra barese deve ripartire dalla sua comunità in vista delle prossime elezioni comunali a Bari. Parola di Antonio De Caro. Anche l'attuale sindaco in carica ha partecipato infatti al tavolo di confronto che ha coinvolto inoltre il Movimento 5 Stelle ed altre associazioni primarie sì o no. Per il primo cittadino barese è fondamentale trovare unità di intenti evitando possibilmente soluzioni estreme. Ho detto più volte che se si riescono ad evitare è tanto di guadagnato, se si trova una figura unitaria che possa rappresentare tutti è meglio, se non si riuscirà si faranno le primarie. Senso di comunità che si traduce anche in programmi di sviluppo per la città con un programma chiaro e condiviso, PNRR è fondamentale. Vengo qui dopo aver finito una riunione in cabina di regia dove noi comuni continuiamo a chiedere di mantenere quelle risorse del PNRR e se saranno spostate dovranno essere sostituite contestualmente con altre risorse come per esempio le risorse del piano complementare del PNRR sono fondi nazionali che ci permetteranno di completare queste opere e queste attività che come sapete per la città di Bari valgono 700 milioni di euro. Sono tante risorse, Asilinido, Costa Sud, riqualificazione della stazione centrale, Sampio, Santarita. Opere pubbliche dunque, ma non solo. Cos'altro poter migliorare? Fondamentale soprattutto il capitolo sui trasporti pubblici. Renderemo sicuramente più efficace il servizio con gli autobus che stanno per arrivare, che abbiamo già acquistato, e altri 150 autobus che arriveranno elettrici con i fondi del PNRR, con il nuovo BRT. Non sarà ancora efficace, sarà efficiente ma non efficace, nel senso che rispetteremo gli orari, rispetteremo i tempi delle linee e però ci vorranno finanziamenti per ulteriori chilometri per attestarci, non dico ad altre città europee, ma città che somigliano a Bari come Firenze e Bologna.